Ciao ragazzi, Ivano Arle Davidson Monza. 120 anni di storia per celebrare questo evento straordinario, questo compleanno storico. Guardate che oggetto che ho qua, guardate che moto, Street Glide Special. Venite a vederla, a toccarla, è in pronta consegna, solo un pezzo in H di Monza disponibile. E vi aspetto da queste parti, dovete venire perché dal vero è bellissima, l'abbiamo vista in foto, l'abbiamo vista sui filmati, ma le finiture, avvicinati Roby, il filetto, la placca del 120esimo. Street Glide Special, in pronta consegna, in Arle Davidson Monza, vi aspetto, dovete venire a toccarla. Ciao ragazzi, a presto!